Sono sei gli imprenditori indagati su una presunta truffa ai danni della Regione Puglia da oltre un milione e mezzo di euro e relativa alla percezione indebita di fondi europei destinati alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici. La Procura di Trani ha chiuso le indagini che riguardano in particolare la società Vimar di Biceglie e Torelli di Trani, entrambe specializzate nella depurazione, trattamento e commercializzazione di prodotti ittici nel nord barese. Secondo gli inquirenti avrebbero truffato la Regione ottenendo il finanziamento di progetti tramite fatture false che, secondo i magistrati, sarebbero state emesse da una terza società, la Officine di Perna, per lavori di impianti mai realizzati. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato agli imprenditori Nicola Di Perna, rappresentante legale della omonima società, e ai soci delle altre due aziende di Trani e Biceglie coinvolte, Angelo Giangrande, Ciro Martire, Giuseppe Edetto, Nicola Paradiso e Nicola Andrea Patella. Secondo quanto emerso, le due società della sesta provincia pugliese avrebbero partecipato a due bandi della Regione tra il 2013 e il 2016, ottenendo i fondi per l'assunzione di dipendenti e per la costruzione di coperture in lamiere, carroponti e cestelli, il tutto con preventivi di spesa e fatture ritenute falsi.